E la francese Sistra ha essersi aggiudicata provvisoriamente i servizi di ingegneria per la progettazione preliminare relativa alla realizzazione della tanto attesa linea 2 della metropolitana di Torino. L'annuncio è stato fatto al termine dell'iter delle verifiche di legge dei vari documenti relativi alle offerte presentate. Sulla base della graduatoria finale, ottenuta al termine dell'esame delle offerte tecniche ed economiche, i francesi si sono aggiudicati i progetti precedendo gruppi italiani e stranieri e il verdetto finale è stato poi annunciato direttamente dalla commissione di gara. Con sede a Parigi, Sistra è un gruppo di consulenza e ingegneria, leader mondiale nella progettazione di infrastrutture di trasporto. L'aggiudicazione provvisoria è un passo importante, sottolinea Maria Lapietra, assessore comunale alla viabilità. Lunedì 4 settembre è in programma l'annunciato incontro con i parlamentari piemontesi per definire come non perdere i finanziamenti ministeriali. Contestualmente, conclude l'assessore, procederemo per deliberare l'aggiudicazione definitiva nei tempi più stretti possibili. 11 anni dopo l'inaugurazione della linea 1, avvenuta nel febbraio del 2006 in occasione della ventesima edizione dei giochi olimpici invernali, che si sono svolti tra Torino e le valli piemontesi, pare quindi essere arrivato il momento anche della seconda linea. La metropolitana torinese è un mezzo di trasporto con guida automatica su gomma e a oggi copre un percorso che, tra la stazione Fermi di Collegno e quella di Torino-Lingotto, comprende 21 stazioni e supera i 13 chilometri. Dal giorno dell'inaugurazione a oggi, la linea 1 della metropolitana ha vissuto una continua crescita di passeggeri. Sono infatti ormai decine di migliaia le persone che ogni giorno sfruttano il treno sotterraneo di Torino per spostarsi in città. Adesso non resta che attendere il progetto definitivo e l'inizio dei lavori per la costruzione della seconda linea, che dovrebbe toccare una cospicua parte della città, in zona nord e in zona sud, non ancora interessata dal trasporto sotterraneo.